Sono orgoglioso di essere stato eletto sindaco per questo Consiglio Comunale perché appunto secondo me è un bellissimo progetto che è fatto dalla nostra scuola in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cortona e secondo me è un bel primo passo per avvicinare oltre i ragazzi alla vita del nostro territorio ma anche a chi comunque sia amministra il nostro territorio è utile per far comprendere i problemi dei giovani Come Consiglio Comunale dei Ragazzi gli impegni principali saranno sicuramente quelli di ascoltare tutte le proposte non soltanto ovviamente i problemi dei nostri coetanei e in modo più specifico in quanto sindaco mi impegno a essere il portavoce di tutti i miei compagni Faccio i complimenti al neosindaco dei ragazzi neri perché effettivamente è una grande emozione vedere i giovani qui in aula che si avvicinano alle nostre istituzioni locali che iniziano a interessarsi dei problemi ma non solo anche delle proposte locali quindi per noi è una grande soddisfazione è quello che volevamo avvicinare la comunità all'istituzione, al comune di Cortona Oggi gli faremo assistere al Consiglio Comunale, li presenteremo si sono organizzati benissimo con tutte le cariche, tutti i consiglieri, assessori e anche commissioni quindi a loro va il nostro benvenuto e diciamo così l'inizio a questa vita politica che poi li vedrà protagonisti negli anni futuri